Tutti siamo tentati perché la legge della vita spirituale, la nostra vita cristiana, è una lotta. Una lotta perché il principe di questo mondo, il diavolo, non vuole la nostra santità, non vuole che noi seguiamo Cristo. Alcuno di voi forse può dire, ma padre, che antico è lei parlare del diavolo nel secolo XXI? Ma guardate che il diavolo c'è, il diavolo c'è anche nel secolo XXI. E non dobbiamo essere ingenui, dobbiamo imparare del Vangelo come si fa la lotta contro di lui.